Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Teleitalia. I camion con le bare di Bergamo, una notizia falsa. Viene querelata la consigliera leghista toscana. Viene querelata dall'assessore Angeloni. Dice un atto doveroso, dopo aver condiviso la decisione con tutta la Giunta. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e ieri, 31 di dicembre 2020, lo ha fatto. L'assessore ai servizi cimiteriali del comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, ha sporto formale querela nei confronti di Leonora Leoncini, responsabile leghista, nel Chianti e consigliera a San Casciano. Prima di Natale, la consigliera leghista aveva bollato come notizia falsa la fotografia con i camion militari che portavano le bare nel pieno della pandemia fuori Bergamo, perché il forno crematorio cittadino era al collasso per le troppe cremazioni. Secondo la leghista, quella era una foto scattata nel passato. Parole che avevano mandato su tutte le furie Angeloni. Una cosa del genere è totalmente inaccettabile, aveva detto l'assessore. È un insulto a tutti i bergamaschi e soprattutto ai familiari delle vittime. Dopo le polemiche, la consigliera toscana aveva provato a difendersi, sostenendo di essere stata fraintesa, come dicono tutti questi personaggi. Ieri mattina l'assessore ha sporto querela ai carabinieri di Via Novelli in città. Mi ha autorizzato ieri l'aggiunta, si tratta di una scelta doverosa nei confronti di tutti i cittadini, in particolare di quelli che hanno perso familiari e amici. Facciamo una premessa. La denuncia ai carabinieri dove vuole arrivare. Cioè, se una persona, poi vediamo un'altra cosa, ma se una persona dice quella è una notizia falsa, la denuncia ai carabinieri che vuole arrivare a un processo per che cosa? Allora, vabbè, facciamo un passo indietro. Il camion con le bare, una foto vecchia. Intanto non è una foto. Sono diversi filmati, girati da decine di persone, dai balconi delle case. Come si fa ad affermare la fotografia con i camion militari che portavano le bare nel pieno della pandemia? Erano delle... È una notizia falsa. La fotografia è vecchia. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Allora, diciamo un'altra cosa. I partiti sono formati da migliaia di politici. Migliaia. Il capo politico, Zingaretti, Salvini, Meloni, Berlusconi, non può, è impossibile conoscere tutti i politici che ha. Oppure, magari li incontra tutti, nell'arco di un po' di anni li incontra tutti, per qualche secondo. Ah, io sono l'assessore, piacere. Una foto? Sì, sì, facciamo una foto. Arrivederci. Magari li ha visti, hanno fatto delle foto insieme, sono stati presenti a una conferenza, a qualcosa. Però, averli visti per qualche secondo, aver fatto un selfie con il politico locale, aver mangiato assieme altre 300 persone in un evento con il capo, non significa che il capo conosca queste persone né come siano arrivati a quei posti. Il capo della Lega, in questo caso Salvini, non può conoscere questa tizia, in alcuni casi sì, ma non può conoscere il curriculum, che ha fatto, chi l'ha eletta, come... È impossibile. Impossibile. Vi faccio l'esempio. in Parlamento ci sono 945 attualmente politici. Voi quanti ne conoscete? Di quanti nomi mi potete fare? Di 30 persone? E sono tante 30 persone. Vi sfido a elencarmi fino a 30 il nome di 30 politici. Difficile, eh? Sono 945. Vuol dire che ce ne sono 915 che nessuno sa dell'esistenza. Quindi immaginatevi che un capo politico non può conoscere tutti, non può neanche averli assunti o così. Quindi le mele marce ci sono in tutti i partiti. Con mele marce, diciamo, quelle persone che poi diventano controproducenti per il partito stesso. Perché una tizia che va a dire una roba del genere fa fare al partito di Salvini ma una figuraccia devastante. Perché poi i giornaloni ci vanno a nozze e pubblicano la notizia come il Corriere della Sera scrive I camion con le bare di Bergamo una notizia falsa Assessore Angeloni coereda la consigliera leghista Toscana. Ecco, questi sono danni di immagine potentissimi al partito. Cioè questi politici che vengono eletti in qualche modo sono poi delle mine vaganti che provocano dei danni cioè piuttosto che portare un loro contributo portano dei danni al partito. Io credo che quando io credo che quando un capo politico venga a conoscenza di questa notizia di altre dovrebbe poi prendere il telefono dire ma questa tizia che guarda che finisca questo incarico ed è vietata assolutamente visto che magari non la si può far dimettere non la si può obbligare le dimissioni dice ok che non venga mai più neanche nominata in nessun posto come Lega che venga proprio che vada con altri partiti ma non ne voglio più sentir parlare. Ecco io credo che purtroppo i capi politici dovranno farne di queste cose settimanalmente con uscite di questo tipo ma come si fa a dire una roba del genere? Ma come si fa a dire una roba del genere? Certo che io mi sono stupito in questo anno naturalmente questo tipo di cose poi vengono fuori perché le dicono su internet le dicono su facebook le scrivono su instagram spesso spesso in questo caso no però spesso queste esternazioni vengono fuori dei social io in questo anno nel momento delle emergenze tu vedi chi sono realmente le persone io mi sono accorto quest'anno che c'è un certo numero di italiani che credono al complotto che tutta questa pandemia sia un complotto per controllarci tramite il 5G che le ambulanze vadano in giro vuote i camion non sono mai esistiti era una foto di quando uno ha fatto il militare nel 1990 ma vi rendete conto io sono rimasto in questo anno a bocca aperta a sentire questo tipo di persone qua incredibile incredibile e ce ne sono tante e sono anche persone aggressive molto spesso non avete visto quello che è successo a quell'infermiera che si è vaccinata la prima infermiera vaccinata è stata minacciata in tutti i modi fuori veramente da ogni logica da ogni logica io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti